I carabinieri della compagnia di Ivrea hanno tratto in arresto in fragranza di reato un giovane albanese di 23 anni, senza fissa dimora, fuggito con alcuni complici a bordo di un'autovettura rubata dopo aver staccheggiato un appartamento. È accaduto la scorsa sera a Feletto, i militari dell'arma sono stati allertati per un furto all'interno di un'abitazione dove era stata segnalata la presenza di tre malviventi intenti ad allontanarsi la guida di un'autovettura oscura. Prontamente attivate le pattuglie in servizio perlustrativo, poco dopo un equipaggio del nucleo radiomobile della compagnia di Ivrea ha intercettato lungo la provinciale 460 un veicolo sospetto con a bordo i tre e dopo averne riconosciuto la targa, diramata giorni dietro a seguito di un altro furto operato a caluso, ha invertito prontamente la marcia ponendosi al suo inseguimento. I fuggitivi hanno allora abbandonato il mezzo sul cilio della strada, inseguiti a piedi nei campi dei militari che sono riusciti ad acciuffare un malvivente mentre i due complici hanno fatto perdere le loro tracce.